Radio, uniformi, C4, attrezzatura da sub, imbracature, cavi e un robot scassinatore. Quindi siamo a posto? Siamo a posto. Andiamo a Miami. Aspetta, dobbiamo dare un'altra ripulita a questo posto, non possiamo lasciare nessuna prova. Ok. Ditemi quando si parte. Che cazzo è questo rumore? Che cazzo è questo rumore? Merda! Pensavi di sfuggirmi, Mendoza? Ti ho insegnato tutto quello che sai. Farà questo strutto. Ah, si è inceppata l'arma. Che sfiga! Addio. Che cazzo? Dai! Sì, è tutto ok. È Dose. Non ha intenzione di rispondere e salutarlo? Dritto alla segreteria del morto. Aspetta, che fai? Probabilmente Dose vorrà un aggiornamento. Io ne mando uno. Forza, Tyson. Dove diavolo sei? Ormai dovrebbe essere uscito. È passata più di un'ora. Magari si è perso. Sulla porta c'è un cartello che indica la cisterna. È così complicato. Ehi, ragazzi, scusate. Mi sono perso. Dove cazzo sei? Trovare la cisterna è stato facile. Trovare lo scarico un po' meno. Ci sono più tubi che nell'organo di una chiesa. Ehi, Tyson, stai lontano dalle telecamere. Tranquillo. Vedono solo un lavavetri staccano vista. Prepara il cavo. Cominciamo a muoverci. Riduciamo i contatti radio al minimo. Ricevuto. Accidenti. Doz non poteva scegliere un edificio più tetro per il suo ufficio. Se non fosse lì dentro saremmo potuti. Vieni, ti forse. Un momento. I grattacieli hanno tutti una cisterna sottetto da queste parti? Sì, la maggior parte. Traviene le oscillazioni in caso di uragani. Cazzo. Tra ascensori biometrici e vetri antiproiettile, Doz penserà che il suo attico sia inespugnabile. Immagino che lo scopriremo. Forza, Tyson lancerà il cavo da un momento all'altro. Vieni, non altro. Questi fuochi d'artificio fanno schifo. Ecco il furgone. Ok, il momento. Forza, abbiamo fretta, Boomer. Lo so. Una cosa. Siamo proprio sicuri di volerlo fare. Un po' tardi adesso. Che ne dici? Mi stavo solo chiedendo se un milione di litri d'acqua stesse per arrivarmi in testa. Settecentosessantamila. O setecentosessantamila, quanti sono? Vorrei essere sicuro di non farmi male. Dico solo questo. Se conosci un altro modo per arrivare all'attico, fa pure. E far saltare la cisterna è stata una tua idea. Sembrava molto più fattibile quando non stavamo per farlo davvero. Cazzo. Bryson è di nuovo all'opera. Avanti, dammi il cipadino. Ecco. C'è anche un panino con marmellate e burro da rachidi. Beh, se vuoi ci scrivo sopra bomba. Avanti, vediamo di farla finita. Porta il cavo alla barca. Cazzo. Dovrai stare lassù con il brute. Vuoi fare il cambio? No, direi che va bene così. Auguri. Fatti il passivo. Se vuoi dare un'occhiata nell'atrio, il parcheggio sulla destra ha una buona visuale. Ci sono vari ingressi. Così pare. Una zona di carico sul retro è una scala che porta al mezzanino sul base. E poi c'è la porta vicino. Se vuoi dare un'occhiata nell'atrio, il parcheggio sulla destra ha una buona visuale. Ma che cazzo di uomini ci voglia? Fermoli! Ehi, cosa? Danazionale. Lo tengo d'occhio niente. Ehi, cos'è? Bisogna dare un'occhiata in giro. Mani in atto! In atto! Un'occhiata in atto! Un'occhiata in atto! Un'occhiata in atto! Vieno! Ci sono! Mi conto io! Qui! Laggiù! Non lo vedo! Un'occhiata! Granata! Garata! Via! Via! Un'occhiata! 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 Sì, via, via! Merda! Di dietro, via! Merda! Come è andato? Avanti, prendetelo! Merda! Di dietro! Sveglio di pulsante! Di dietro! Leggiù! Cazzo, forza! Ehi, di qua! Preso! Di là! Stanno a loco giallo! Laggiù! Lo vedete? Ehi, attenzione! Attenzione! Prendete quel figlio di puttana! Lo vedo! Avanti! Qualcuno l'ha visto? Oh, cazzo! È andato di qua! È venuto qui! Non puoi avertire! Mettetelo! Attenzione! Ma che cazzo... Friato! È cazzo! Oh, bella delazione! Ehi, attenzione! Merda! Da... cazzo! Cazzo! Merda, devo provare qualcos'altro. Merda! Deve esserci un indizio. Nick, il tuo scanner potrebbe servire? Ok, penso di poter individuare il codice. Ah, l'ascensore è sbloccato. È il piano di guardie per essere il 4-1. Cosa sa che stiamo arrivando? Forse, ma non sa come stiamo arrivando. Ragazzi, sono al diciannovesimo piano, ma qui ci sono un sacco di guardie. Va bene, allora andiamo al ventesimo. Colpisci lì dall'alto, bene. Dimmi un po', che facevi il 4 di luglio da piccola? Le solite cose, mettevo la salsa di pesce sugli hot dog, guardavo i fuochi. Siamo al ventesimo. Benvenuti a Preferred Outcomes. Sono vicino a un ufficio di rappresentanza. Sembra ci siano dei lavori in corso. Stiamo arrivando. Fermo! Non muoverti! Senti, sì! Senti, sì! Chissà quanto sta guadagnando un computer d'Auco, un po' di loro. Alla prossima! Tu pensi. Senti, sì! 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 Sì, sì. Fermo lì! Che cazzo significa? Un'altra cosa. Dite l'ho, amico. Perché Dose ci ha fatto venire tutti per il weekend? Beh, Dose sa sempre qualcosa che io non so. Oh, ti capisco. Quando ci danno al campo? Mia moglie è già arrabbiata perché mi sono perso i fuochi con i bambini. Lo vedi? Abbiamo trovato qualcosa! Qui si stava muovendo qualcosa. Non male, Miami. Non male. Ho visto che qualcuno è andato di qua. Ma che cazzo! C'è qualcuno nei barazzi! Cosa? Ho notato qualcosa da queste parti. Fermo! Mani in alto! Sì, sì. Mani in alto! In alto! Fermo lì! Che cazzo significa? E questo? Fermo! Rai, dove sei? Va bene, va bene! Basta con sta merda! Non so. C'è qualcosa? Attenzione! Spara! Basta ancora! Un attimo! Occhio a ogni stranezza! Resto qui! Se c'è qualcuno qui, dobbiamo trovarlo! Vado a controllare! Prima sparate, dopo le domande. Se vedete qualcuno, fatelo fuori! Controllate là giù! Se vedete qualcuno, sparate! State pronti a tutto! Continuate a cercare! C'è qualcosa! L'occhio aperto! Controllate che non ci sia nessuno! Guardatevi! Sì! 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 Cazzo ragazzi, stai chiamato! Attenzione! Avanti, avanti! Tieni, Boomer ti ha preparato il pranzo. Cazzo! Saranno otto giorni che non ruba qualcosa, lo sai? Ehi, sicuro di aver trovato il tubo giusto? Sì, sicuro. Penso che voi due siate pazzi! Saliamo. Spalateli! Prendetelo! 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 Figlio di puttana! Laggiù! Di là! È laggiù! Andiamo! E' qui! Ehi, di qua! Dov'è finito? Di là! È qui! Qui! Ma che cazzo! Dì, scaccia! Prendetelo! Chi è questo tizio? Ehi, di qua! Deve essere qui! Lo vedo! Brutto strotto! Attenzione lì! Deve essere qui! Spalateli! Prendetelo! Un attimo! Stronzo! Tutto a posto! Voi subacquei potete far esplodere le cariche quando volete. La cisterna si scaricherà nel vano dell'ascensore. 10-4 Ecco. Ora viene il vento. Do sconto su quell'ascensore privato per tenere a sicuro il suo attico. Boomer ha detto che era inviolabile. Per fortuna non dobbiamo violarlo. Metti la maschera. Sì. Sicuro di volerlo fare? Beh, se vogliamo quei soldi devo premere questo tasto. Giusto. A Los Angeles mi hai chiesto di fidarmi di te, io l'ho fatto. E guarda come sei finito. Dimmi, rilassati, funzionerà. Beh, non sono sicuro che funzionerà. Allora immagino tocchi a me fidarmi stavolta. Stando. Allora immagino. Allora immagino. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Merda. Bella domanda. Ok, cerchiamo tutti. Il deposito deve essere qui da qualche parte. Vale la pena di controllare quel computer. Grazie a tutti. Hai fatto una scassione del tabirezzo? Grazie a tutti. 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 Non resti a guardarlo. Non è che ha bisogno di incoraggiamento. Ragazzi, ragazzi ho delle brutte notizie. Grazie a tutti. Arriveranno da qui. Dobbiamo tenerli impegnati. Grazie a tutti. Guardate da qui. 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 Se hai un merino infrarossi è il momento di usarlo. Controlla l'armatizzo delle armi nell'ufficio di Dawson. Continuate a cercare. Vado a vedere. Se c'è qualcuno qui dobbiamo trovarlo. Guardate dappertutto! Rivediamoci! Lo vedo! Ehi! Ehi! Sparatevi! Indietro! Ehi, attenzione! Lo vedo! Questa è la sua! Che amico! Ehi, questa è marito! Prendetelo! Attenzione! Gas! Ehi, attenzione! Questo è basso! Andiamo! Fermatelo! Brutto strutto! Ehi, voi! Ehi! Ehi! Ecco qua! Ecco qua! Mendoza! Il brutto ha funzionato! Forza piccola! Perde! Il deposito è aperto! Ora ripuliamo questo posto! Indietro! Dyson! Oh, cazzo! Guy? È vivo! Il giubbotto l'ha salvato! Ehi, resta con me! Sì, sono con te! Portiamolo fuori di qui! È apposto! In piedi! Ho preso fuori! Forza, portalo al cavo! Di qua! Don si sapeva del nostro arrivo! Ti è andata male? Direi di sì! Sei duro da uccidere! Interessante! Non abbiamo finito! Io non ho finito! Io ti credo, lo sai! Davvero! Semplifichiamo le cose! Sono Santa Rosata, non è lontano! Sì, so dov'è! Allora devi... Devi riacciarmi! Maledizione! Vieni, che dobbiamo andarci! Forza, mi tocca! Vendiamo la semiferica! Boomer si prenderà, va bene? Boomer! Rytos sta arrivando! Sei accanciato! Ti sto dietro! Dove sono? Merda! Proviamo ad incontrollare il balcone! Presto! Eccoli! Tu, ferma dove sei! Via, via! Oh, merda! Massa! ихi usfori! Ahike! oh merda! Pr篤ì落niamo il bind. Vieni, che siete! Anche a traire, ecoe si perde! 있는 erronea che TRÈ esprichiamo��! E Rachel! Salutio! Oh! Nei, che è la sc Wat? Scuto! Porca troia! Kai! Kai! Dai bene? Sì! Sì! Di là! Forza! Cazzo! Via da me! Preso! Andiamo! Colpitelo! Tu dovresti essere... Mi scappa! Forza, forza! Presto! Avanti, avanti, avanti! Dai! Dai! Devi tenere il pacchetto! Non lo so! È messo molto male! Guido io, tu aiuta Kai! Ehi! Ehi, ma dove vai? Andiamo a trovare Dove! Come fai a sapere dov'è? Me l'ha detto lui! Ehi!